Ormai siamo morti, nel senso che siamo stati sacrificati prima di Pasqua sull'altare come gli agnelli. Siamo 35 disperati che non hanno più risposte da mesi. Ci stiamo confrontando sempre con Maurizio Acquaviva che ci sta dando lui una mano perché ormai non ci ascolta più nessuno, ci prendono continuamente in giro, c'è gente che ormai sta allo stremo, è un anno che non percepisce nemmeno un euro, è un anno che c'è la famiglia che non sa come fargli da mangiare. Fra poco qualcuno o delinquirà o si ammazzerà perché siamo arrivati al break point, il punto di uno ritorno perché ci sta gente che ormai non riesce a mandare avanti la famiglia, ci si continua a prendere in giro, ci si continua a dire non vi preoccupate adesso andiamo in regione, dalle notizie della storia sul mare che ci fa piacere che rimana aperta, dicono che forse aumenteranno i posti, però i licenziati non possono rientrare perché non c'è più la casa integrazione. Ma voi al momento non siete più beneficiari di nessuna ammortizzazione sociale? Siamo beneficiari della Caritas e del buon senso di Gesù che ci mantiene in vita perché ci dà la possibilità che qualcuno di noi non faccia un brutto gesto, che si ammazza perché questa è una denuncia, perché se qualche collega nostro dovesse fare un gesto allo stremo, si andrà davanti a tutti i tribunali, noi chiederemo anche un incontro al prefetto perché ormai dobbiamo chiedere un incontro al prefetto, poi ci resta Renzi, ci resterà Berlusconi perché poi li dovremo andare all'estero perché qui nessuno si ascolta. Maurizio Coviva della sezione formiana del Sud Pontino dell'RSB, tu stai un po' coordinando questa attività sindacale che mi sembra molto estremizzata a questo punto. Diciamo che praticamente il fondamento è nato proprio da un problema sindacale perché mandare via 35 lavoratori, quando la regione aveva in essere degli ammortizzatori sociali come la Cassa Integrazione in Deroga e la mobilità in Deroga, sai, mettere in mezzo la strada e mandarli direttamente in disoccupazione è un'azione sbagliata, adesso poi non è che siamo qui a verificare quello che è successo, noi siamo qui perché mai come oggi un argomento importante come la sanità, come il piano operativo regionale dove vede lo sviluppo delle case della salute perché si parla nel POR di aprire Gaeta e Minturno e quale migliore occasione per chiedere al sindaco di Formia e al presidente Zingaretti di rispettare quegli impegni pubblici presi ad aprile ma non con noi organizzazioni, direttamente con i cittadini, da quel momento non ci sono state risposte. Impegni presi, dobbiamo ricordarlo, prima di una consultazione elettorale amministrativa, no? Certo, impegni presi prima di una consultazione elettorale amministrativa, impegni presi e fumo negli occhi a questo punto perché si è voluto portare avanti la questione ma con tante proposte sia da parte dell'organizzazione che da parte della regione ma senza mai avere poi alla fine un risultato. Oggi abbiamo chiesto, oggi, qualche tempo fa abbiamo chiesto, visto che hanno praticamente finanziato per il 10% la mobilità in deroga, abbiamo subito immediatamente presentato una richiesta alla regione di inserire provvisoriamente queste persone perché questa è una soluzione provvisoria, non ci scordiamo che può essere utile per chi è vicino alla pensione ma per le persone che non ci arrivano è necessario trovare un posto di lavoro e oggi le possibilità ci sono, sono stati persi tanti treni.